benvenuti a minecraft non gioco più a minecraft da un mese forse perciò non ho idea di cosa stavamo facendo eccetera ho un po' di magic puncher e sono ancora in vacanza perciò mi sto un po' obbligando a fare questo let's play per non rimanere troppo indietro ma cerco di intrattenervi il più possibile ok siamo già nel 2012 mi ci devo abituare siccome nelle prossime verifiche scriverò ancora 2011 anche se già lì no non lo dico vabbè esaltiamo un po' la roba perchè ho notato che eravamo pieni mi ricordo cosa oh mio che fortuna l'ho vista dalla redstone mi sono ricordato un attimo quei cosi che uso possono esplodere poi è vero dovevo costruire sto dicendo come sono arrivato a ricordarmi cosa dovevo fare e sta laggando in un modo che vedete ok si è ripreso solo non ho ancora minima idea come fare abbiamo tanta sabbia e qua vediamo un uovo che sta che viene trasportata di là e ho poi che il volume è un po' alto abbiamo dei repeater no mi sembra dei repeater come vedete mi sembra che è stato anche per fatto tutto questo macello andiamo a dormire per non rischiare nuovamente questo incidente vediamo la sabbia mi sono non ripeter ma è buio non mi ricordo nemmeno più i mod che ho installato la million e no non ce l'ho più mi sembrano sassi sassi e torce perché via con quello vediamo un po' dove troviamo i repeater basta andare sulla redstone e cercare repeater me ne faccio tre me ne faccio tre ho detto tre ho tre repeater così andiamo di là aia ok sta esplodendo o no bene ci sto riscaldando adesso un test non si attiva ma lo togliamo qua e inizia la gare quanto lo odio aiuto ecco fatto adesso va si bene adesso per prima cosa faccio una scia spero che non cambia se lì attaccato ma non penso andiamo avanti finchè arriviamo qua qua mi faccio un passaggio per me poi rimetto la sabbia oh merda no la mia redstone anche se è un pezzo importante per me che è un pezzo importante per me a merda come faccio se io metto un lever e non ho ecco ho un lever adesso e lo metto qua si attiva bene adesso basta guardare fino a dove scusate ok bene 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 ok allora la metto qua nella redstone di qua togliamo questo adesso mi interessa una cosa cosa succede ah allora mi devo pensare un altro sistema e questo inizia con la terra adesso vi faccio vedere cosa farò prendo prendo come base la terra e poi sopra la terra metto la sabbia e in questo caso devo ancora eh aggiustare un po' le cose che mi sa che hanno i creeper come al solito a distruggermi tutto una cosa che odio una cosa che odio i creeper mettiamo la base anche se anche se qua possiamo da uno più alto adesso devo pensare quando devo deattivarlo buona domanda quando si deattiva direi ogni fine di giorno cioè ogni volta che vado a letto anche qua devo coprire tutto io proprio non mi bastano le cose i materiali però giusto a tutto terra qua ma si penso che basti aiuto dato che lì che cado sempre ci devo mettere ci devo mettere tipo una scala come base di terra per poi metterci sopra la sabbia direi questo via anche questo così così anche questo buco via e arrivederci al prossimo video